È entrata in vigore oggi anche nelle regioni zona bianca il Super Green Pass. La certificazione è decisa dal governo per contrastare il forte aumento dei contagi da Covid in Italia, aggravato negli ultimi giorni dall'arrivo della variante Omicron. Per i cittadini vaccinati e per quelli guariti da meno di sei mesi non cambia nulla. Per tutti gli altri la socialità fuori dalle mura di casa sarà fortemente ridimensionata. Fino al 15 gennaio chi è in possesso solo del Green Pass di base, e mediante tampone antigenico con validità 48 ore o molecolare, valido per 72 ore, non potrà recarsi nei bar e nei ristoranti al chiuso in tutta Italia, mentre nelle regioni in zona gialla avrà l'accesso vietato anche nei cinema, teatri, stadi, discoteche, palestre e piscine. Sono esenti dal provvedimento i minori di 12 anni, per i quali non vige l'obbligo vaccinale. Intanto a Nuore Provincia sono iniziati questa mattina i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle nuove regole. Le verifiche non saranno solo rivolte a bar e ristoranti, dove è necessario il Super Green Pass, ma anche a quei luoghi dove per accedere è necessaria la certificazione base, dalle palestre agli alberghi, dai cinema e teatri al trasporto pubblico locale. Ma l'obiettivo specifica alla questura di Nuoro non è di punire, ma di sensibilizzare sulla necessità del rispetto delle nuove regole. E al lab vaccinale di Nuoro questa mattina la situazione era sotto controllo. Per la maggior parte si tratta dei cittadini che richiedono la terza dose, in decisa minoranza quelli che richiedono la prima.